Ciao a tutti amici, finalmente mi hanno attivato la tv via cavo e vi faccio vedere come funziona Allora, questo è il telecomando, questo serve per cambiare i canali Questo qui ha i raggi infrarossi Allora, quello lì è il cosino Come canali io ho il pacchetto baracca, no? Subaru baracca c'ho, praticamente c'ho questi canali qui Allora, si mette nella guida Poi vado sui favoriti Praticamente questi sono canali locali Alcuni sono locali Poi c'ho Historic Channel 2 Questi sono in HD, molto belli Poi c'è Dog Body Hunter Stavo guardando adesso, questo è su AE Praticamente quello lì a sinistra è un ricercatore d'Italie Molto bello, un buzzurro La sua moglie buzzura, tutti buzzuri Sicuramente lo daranno anche su D-Max In italiano, olè Poi c'ho il canale Food, Food Channel Però la mattina ci sono solo pubblicità Adesso non c'è niente Poi c'è questo, USA, HD Che ci sono dei filmetti Adesso c'è Doctor House Poi c'è Mother Malverse Che stavo guardando su History Channel 1 Molto molto bello Facendo vedere che c'è le New Balance Il 25% delle New Balance le costruiscono negli Stati Uniti Però costano dai 100 ai 150 dollari quelle lì Le mie fatte in Bangladesh costano solo 49 dollari Olè Poi Adesso non so, c'è un programma che stanno facendo Per l'HD ho dovuto pagare 10 dollari in più al mese L'altro Poi Questo c'è CNN Molto bello Poi c'è Discovery Channel Molto bello Poi c'è APDH Cos'è che? Ah, Animal Planet Iiii Piccolino Ah sì, quello è l'amico di Ciuschi Lei l'aveva detto Ciuschi che un suo amico era andato in tv Questo qua Guarda, questo qui Questo è Frankie Culo di Gomma, si chiama E basta Poi c'è Fox and Friend C'è Ah, AMC Questo qui è bellissimo Vabbè, adesso c'è la pubblicità Come ho detto la mattina non c'è niente Ieri sera guardavo un programma che si chiama Freak Show E praticamente Freak Show sarebbero i fenomeni del barracone C'è sto posto a Venice Beach, California Che ci sono tutti mostri Persone con deformità Ad esempio c'è uno che gli manca le braccia Se sono solo le mani C'è uno che gli manca un occhio E praticamente c'è proprio il buco nel 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 teschio Che poi Gli mancano anche i denti davanti Si mette un dito dentro dall'occhio Esce fuori dalla bocca Belli, belli Comunque lo consiglio Freak Show Questo è il canale locale Però in HD Sto sistema del telecomando è un gran casino Perché poi io ho il servizio baracca Tutti questi on demand Serve per vedere dei filmetti pre-registrati Che sono sul loro sito Dal coso lì Dalla tv qui Non funziona Quindi questo è inutile Questo qui è il DVR Per registrare È inutile Non c'ho l'abbonamento Io c'ho il modello Economico Che spendi Vabbè con l'internet Spenderò 100 dollari al mese Però ve l'ho già detto Internet solo Mi costava quasi 80 dollari Quindi Anche se non ho tutte le funzioni Ovviamente ho aggiunto la tv Per 30 dollari al mese Si può fare Anche perché poi Ho disevitato Netflix Che erano 10 dollari al mese Quindi Più o meno Si può fare Però ho preso il modello Proprio baracca Che perlomeno ha questi canali Che vi ho fatto vedere Che non sono male Disco a vericiane Bellissimo Blablabla Poi Questi qua sotto Non funzionano Quindi Il telecomando È da qui a lì Poi sto menu È un po' Incasinato Perché io devo sempre andare Nei favoriti Perché Qui i canali Me ne fanno vedere Un sacco Che non mi vanno È un po' incasinato Allora io Faccio in questo modo qui Chiudi sto coso Praticamente sull'iPad C'è la app Che ti fa vedere I canali Adesso ti faccio vedere Praticamente Ho settato i canali Che ho E così posso vedere Facilmente Cosa stanno facendo Vedo il numerino E poi Lo giro manualmente Sul canale Faccio molto prima No Ad esempio Blablabla App Che è in omaggio È il player È praticamente un coso Tipo Netflix Che puoi vedere TV show TV series E bisogna andare Però nelle opzioni Filtre Bisogna nascondere Quelli che Sono loccati Che non li posso vedere Che non ho la sottoscrizione Ci sono Seleziono American Pickers Sono tutti Sti qua Da guardare Ci sono questi Poi ci sono Anche i film I film Ovviamente Non è che Siano nuovissimi Un po' come Netflix Quindi avendo Tolto Netflix Magari uno dice Ma che non lo so Mi piacerebbe vedere Hostel 3 Tac Lo guardi Poi la funzione È molto bella Che non ho ancora Super testato E che si possono Anche scaricare Di film Ad esempio Questi sono tutti I film Che puoi scaricare Sull'iPad E quindi infatti Io ieri Ho scaricato Donnie Brasco L'esercito Di 12 scimmie E Fidal Delfia Però Non ho ancora provato Se Anzi Facciamo adesso La prova Se funziona Senza il Wi-Fi Perché mettiamo Vado in campeggio Voglio vedermi Un filmetto Che ho già visto Che non ho visto Mettiamo Airplay mode Andiamo Su Player Allora Mettiamo Philadelphia Mi sa che lo deve Attivare Ah no Funziona Ah bello Bello E perché Netflix Questa funzione Non ce l'ha E questa qui Mi pare abbastanza Bella Ovviamente Non c'hai film Nuovi Non hai tantissimi Film Prometti Caso Devi andare Che so Qualche posto Abbastanza Abbastanza Bello Questi qui Però scadono Il 18 Invece Donnie Brasco Lo posso vedere Tutte le volte Che voglio Poi volendo Quando scarichi Puoi avere Anche la versione HD Adesso Ho solo Scaricato La versione Sempliciotta Da 500 Megabyte Allora Andiamo subito Al punto Che ci interessa A noi Che te lo dico Fa Sì andalo a trovare Ti voglio Si può Si può andare Al capitolo Questo cos'è Ah è questo Aspetta What do you call It Where the Yeah Mm-hmm They got a boat Down here Huh Abb-scan That's right Oh for crying Oh fuck Hey can I ask You something What's Forget about it What is it Forget about it It's like If you agree With someone You know Like Rockwell Welch is one Great piece Of ass Forget about it But then If you disagree Like a Lincoln Is better In a Cadillac Forget about it You know But then It's also like If something Is the greatest Thing in the world Like Mingy Those peppers Forget about it You know But it's also Like saying Go to hell Too Like you know Like Hey Bully You got a one inch Pecker And Bully Says Forget about it Forget about it Bully Forget about it Bello Bello Poi Aspetta Non è finito Basta Molto bello Molto bello Vediamo qui Ritorniamo indietro Vediamo altri Che posso scaricare Movies Downloadable Ah beh perché ho tolto La connessione Adesso non mi fa più Vedere le cose Però L'esercito Delle scime Giusto domani Devo andare in campeggio Mi sparo L'esercito Delle 12 Poi Poi lo stesso discorso Del robe on demand Le posso fare anche dal Dal computer Che sono già nel computer No? Ah no aspetta Non sono nel computer Nel computer Poi ho attaccato L'uscita Del cavo L'antenna Diciamo Con ITV Quindi praticamente vedo Non perdo Quello che stavo guardando Posso vedere qui Ah sì perché ho messo il mute No? Però ovviamente non posso Cambiare da qui Devo sempre cambiare da là E poi Non mi fa registrare ITV Posso fermare l'immagine Ma non posso andare indietro Avanti Adesso domani Proverò dopo Attaccarlo con la connessione S video Oppure composite Vedere se mi registra Perché mettiamo Questo bellissimo Questo film Forget about it Allora Dico Ah registrano Poi quando vengo a casa Me lo guardo Salto tutte le pubblicità Non sarebbe male Poi Lo stesso discorso Posso andare qui E vedere i programmi Gli episodi Ad esempio Forrella Ballet Vado qui Q Me ne sono già inseriti Un po' Ad esempio Arco un po' Ah quello lì non si può vedere Men's vs Food Preferitissimo Bravissimo Bravissimo Gna gna Però Ci sono solo 4 episodi Però vabbè Dopo guardo Quando lo fanno Sulla tv Ci guarderò Upcoming tv list Non c'è La nuova stagione Ah no Ci sono anche questi Ah Calmi Men's vs Food Perché questi sono divisi Poi ho anche attaccato L'antenna Nella tele di là Quindi quello che sta Trasmettendo lì Lo posso anche vedere di là Tipo ieri sera Sono andato a letto C'era Freakshow Attivato E dopo mi sono Dormitato E mi sono Dormitato molto Benissimamente Allora Primaveramente Tutto Ciao a tutti Ciao a tutti